salve a tutti buonasera e bentornati nuovamente su cano tv questo è il terzo video del giorno perché ho tante cose da dirvi oggi ho visto e letto tante cose nell'ultimo periodo e quindi dopo aver parlato di un film torniamo a parlare di fumetti perché ho da raccontarvi qualcosa circa racconti dal derling il numero 2 che da qualche giorno a questa parte potete trovare in edicola al prezzo di 5 euro e 50 e già qui va fatto una piccola parentesi sul prezzo perché la bugs comics secondo me è sempre molto corretta ecco con noi lettori perché ci propone degli dei prodotti di alta qualità a dei prezzi ancora popolari ecco io qui neanche farlo apposta ho sotto mano un altro speciale che ho comprato recentemente in edicola non ho ancora letto non ho ancora avuto occasione il commissario ricciardi anche questo è una ristampa una ristampa di un numero di un cartonato da fumetteria che è proposto in edicola al prezzo di 8 euro e 90 sicuramente un prezzo più impegnativo del 5 50 con cui la bugs comics propone uno speciale contenente nove storie ristampate che originariamente erano state pubblicate su la rivista mostri che oggi non esiste più che era una pubblicazione appunto della bugs comics qui le storie proposte sono 10 perché oltre alle 9 ristampate da mostri ce ne viene proposta una che fa un po da epilogo prologo nonché da da collante no per tutte quante queste queste storie proprio come era avvenuto sul primo numero dei dei racconti dal dereling no che aveva dei dei toni diciamo sul violetto aveva la costina violetto questa la costina verde a dei 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 toni diciamo più sul verde e presenta una fantastica copertina ad opera di fernando proietti che diciamo ci così ci cita una delle storie la prima se non vado errato dovrebbe essere la prima a meno che non stia facendo non stia commettendo qualche grossolana gaffe che potrebbe tranquillamente essere ma dovrebbe essere la prima che ci cita un po la la prima storia no che noi appunto troveremo all'interno di questo numero una copertina che molto horror comedy no quindi quel 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 quella visione diciamo ironica ecco di vedere di raccontare tematiche appunto relative all'orrore no qui vediamo una famiglia di zombie ma che tutto sommato è è felice no con il bambino che gioca con il telefono insomma sulle ginocchia della mamma è una copertina veramente molto molto bella molto ben disegnata e anche ben colorata con un ottimo lavoro di fernando proietti forse una copertina più più carina di quella della del primo volume di questi racconti dal derling quindi il prezzo è assolutamente popolarissimo a proposito di prezzo va detto che samuel stern chiaramente la pubblicazione di punta diciamo attualmente della bugs comics che qui ci viene pubblicizzata nella quarta di copertina ci viene ci vengono ricordate le due fantastiche copertine le due cover diciamo varianti insomma il cover delle della storia che attualmente si trova in edicola di samuel stern poi ci viene anche anticipata la copertina del prossimo numero di samuel stern peraltro notare la scritta che finora è sempre stata rossa il logo di samuel stern che finora è sempre stato rosso diventare giallo forse non lo so a testimonianza di un nuovo arco narrativo che partirà a partire dal prossimo numero una novità che a me affascina positivamente la bugs comics che ci ha anche preparato agli aumenti che la testata di samuel stern subirà non si sa ancora quando ma in un futuro molto prossimo almeno così si 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 pensa ecco si è capito che è una una manovra inevitabile purtroppo il periodo è quello che è lo sappiamo è un periodo di difficoltà e quindi le case editrici non possono fare altro che aumentare io credo che la bugs comics sia una delle case editrici più rispettose se non forse addirittura la più rispettosa in assoluto nei confronti di di noi lettori c'è un bellissimo dialogo tra appunto editori autori e noi appassionati io saluto e ringrazio ancora Gianmarco Fumasoli che mi ha dato la possibilità di 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 far di registrare insomma assieme a lui un'intervista una video chiacchierata assieme anche a gennaro del canale graucio secondo che affettuosamente saluto e è veramente un un gesto di enorme rispetto e considerazione da parte degli autori verso noi lettori che alla fine siamo semplici appassionati quindi a me fa veramente molto molto piacere acquistare prodotti bugs comics anche perché c'è 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 questo c'è questo rispetto profondo nei confronti di noi lettori credo che una case editrice arrivi soprattutto in questo periodo storico a prendere la decisione di aumentare solo se costretta quindi ecco non non credo che ci siano altre motivazioni sotto parliamo di questo racconti dal derring 5 euro 50 128 pagine 10 storie di cui 9 appunto ristampate dalla collana mostri la non la decima scusate di collante di collegamento no fra fra tutte le altre perché ritorniamo un po' alla situazione che avevamo visto nel primo numero di questi racconti dal derring ovvero angus derring appunto il protagonista di questa pubblicazione speciale che è solito ogni tanto raccontare ad alcune persone che si raggruppano diciamo nel suo salotto dei personaggi anche piuttosto differenti fra loro c'è il giovane teppistello c'è la signora di una certa età c'è l'uomo un po' elegante misterioso insomma ci sono dei personaggi anche così differenti fra loro che si radunano appunto nel salotto di angus per ascoltare le storie che lui legge quindi la conoscenza diciamo di questi personaggi l'avevamo fatta nel precedente albo e angus racconta anche in questo in questa occasione nove storie dell'orrore differenti che mettono in scena diverse tematiche no del appunto del dell'horror alcune riconducibili all'horror comedy come per esempio questa prima storia fantastica dove praticamente c'è una famiglia di di morti no una famiglia di zombie che in qualche modo non si sa per quale motivo ritorna in vita e quindi tenta di 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 tornare con esiti tracci comici alla vita di tutti i giorni no quindi figli che vanno a scuola il padre che cerca di andare al lavoro la madre che che va che fa la casalinga va al al supermercato a fare la spesa è una storia veramente molto molto divertente che la cui copertina diciamo è ispirata no poi abbiamo altre storie io adesso chiaramente ve le posso così diciamo descrivere in maniera molto superficiale perché sono storie brevi chiaramente quindi finirei per farvi qualche grossolano spoiler se mi addentrassi più di tanto nella descrizione la prima storia appunto relativa a questa famiglia di zombie vi posso dire che è sceneggiata da fumasoli e disegnata da da andrea olimpieri o olimpieri spero di aver pronunciato bene il cognome mentre invece la seconda i figli di san grimorio che mette in scena un po insomma delle tematiche legate alla santificazione di dio di un religioso in un piccolo paese di provincia è sceneggiata da massimiliano filadoro mentre invece autore dei disegni è antonio de luca scusate ma faccio un po di fatica a ritrovare i nomi degli autori però questi autori guardiamoli i disegni vi chiederete voi ecco quindi vi mostro qualche tavola dei disegni di olimpieri o olimpieri appunto la prima storia relativa agli zombie che è molto molto simpatica vedete anche un tratto molto molto particolare mentre invece eccovi alcune tavole di de luca relative alla seconda storia sceneggiata da filadoro mentre invece della prima si era occupato fumasoli un tratto più forse più classico ma altrettanto affascinante perché guardate che belle espressioni e che tavole comunque molto 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 belle disegnate da de luca poi andiamo alla terza storia con il sorriso sulle labbra sceneggiata da da scali ovvero ovvero marco scali e disegnata da minotti ossia ossia pier luigi minotti che mette in scena insomma delle diciamo delle ecco un un gestore di un negozio che è costretto a a firmare un particolare patto diciamo per continuare a mantenere la la sua la sua attività guardate anche in questo caso i disegni come sono come sono particolari come prendono anche le distanze dagli altri da quelli delle altre storie insomma che abbiamo visto prima la quarta storia è the greatest show on earth il più grande spettacolo del mondo che peraltro è anche il titolo di un film classico con james stewart e charlenton eston disegnato da caracuzzo questo episodio e sceneggiato da Gianmarco fumasoli caracuzzo e fa di nome Giancarlo quindi Giancarlo caracuzzo per una storia ecco molto molto inquietante forse la storia che più mi ha inquietato fra fra tutte quante che mette in scena eh tematiche relative ai freak quindi agli spettacoli eh da da baraccone no potremmo dire così eh alle attrazioni da da baraccone con un ragazzino che in qualche modo subirà una sorte veramente eh veramente tragica la la quinta storia mi pare fra un po' perderò sicuramente il il conto delle storie crum e cubrat sceneggiata da ruocco e disegnata da dossena andiamo un attimo a vedere i nomi se ve li trovo in tempi ragionevoli luca ruocco è lo sceneggiatore mentre invece francesco dossena il disegnatore lo stile di dossena lo adoro forse ecco vi dirò che tra tutti quanti è lo stile di disegno che più ho apprezzato guardate che che meraviglia queste tavole di dossena sono fantastiche anche qui si parla di freaks di di spettacoli da 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 baraccone insomma qui si parla di due fratelli siamesi che si esibiscono appunto in un circo ma uno dei due muore e non può essere eh staccato diciamo dal dall'altro e quindi l'altro è costretto a portarsi appresso il 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 cadavere del gemello morto una storia anche qui piuttosto piuttosto inquietante con questi disegni di di dossena non lo so mi ricordo un po' il gabinetto del dottor Caligari per via delle delle scenografie fa anche un po' la sposa cadavere di Tim Burton ehm sono delle tavole fantastiche veramente poi realizzate con questi mezzi toni sul grigio sono davvero delle dei disegni che mi hanno che mi hanno colpito molto forse i miei eh preferiti guardate anche qua proprio che ehm che espressioni no? che con questa questa spigolosità con la quale dossena è veramente fantastico nel rappresentare questi questi personaggi e poi andiamo alla alla sesta mi pare storia il custode il custode sceneggiata da Marco Scali e eh nuovamente disegnata da De Luca una storia molto bella un po' in stile barba blu nel senso che c'è una porta che non deve essere aperta una una porta di una casa che non deve in alcun modo essere aperta e un bambino che poi a un certo punto ovviamente la apre perché quando ci sono film o storie insomma ehm incentrate su un qualcosa che non deve essere aperto chiaramente noi spettatori o lettori non vediamo l'ora che qualcuno apra quella determinata porta no? quel determinato varco ecco. Poi la settima storia si intitola Condominium sceneggiata da Massimiliano Filadoro e ehm disegnata da Maruccia Alessio Maruccia anche questa è una storia molto inquietante con un uomo che dovrebbe insomma prendere in affitto un appartamento di di un condominio molto molto particolare molto molto inquietante molto angosciante ecco non vi dico più di tanto ma sono storie guardate qui che che disegno particolarizzato da parte di Maruccia veramente vedete anche degli stili di disegno particolarmente differenti no? quindi un altro dei punti positivi di questo di questo albo è appunto trovarsi di fronte a dei a dei disegni a degli stili ecco di 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 disegno totalmente differenti come ad esempio quello della dell'ottava storia le esecuie durature sceneggiata da Congedo e disegnata da Frezza ossia Riccardo Frezza e Giuseppe Congedo ecco qui con tratto forse un po' più digitale forse potrei osare dire incentrata su il custode di un di un cimitero che 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 scava delle fosse più profonde per i per i per i suoi ospiti quindi per un gruppo di zombie che in realtà sta giocando a carte e gli ha espressamente richiesto di 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 avere una tomba insomma scavata più in profondità per per non patire il caldo estivo no? quindi vedete molte situazioni horror comedy e poi arriviamo alla nona storia se ho fatto bene il conto ovvero Maledetta sceneggiata da Cavaletto Andrea Cavaletto dovrebbe essere sì Andrea Cavaletto e disegnata da Marcello Mangiantini no? che noi autori di Zagor insomma conosciamo bene perché lo vediamo sempre ehm all'opera diciamo su sulla testata di Zagor con il protagonista questa storia due una coppia diciamo di giovani che si apparta nel nel bosco diciamo per consumare un rapporto sessuale e sarà disturbata da da un qualcosa o un qualcuno ecco io ancora una volta non mi non mi dilungo troppo nel nel raccontarvi questa storia che è molto interessante che sembra un po' basarsi diciamo su un'auto maledetta no? un po' la la Little Bastard di James Dean ecco quindi che cosa dire ehm nove storie più appunto quella che fa da collante che fa da prologo che fa da epilogo che è disegnata da perrone ovvero ehm ovvero ovvero perrone non lo trovo no non trovo il nome di scusate mi scuserai il disegnatore ma non riesco a trovare il nome sceneggiata da filadoro ehm e savegnago e disegnata appunto da perrone che eh di nome fa F ma non 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 sono in grado di disegni di Federico Perrone ecco della storia Federico Perrone scusate stavo guardando nella colonna sbagliata che appunto l'autore dei disegni della storia che fa da raccordo da collante eccoli qua i eh i disegni appunto della della vicenda che vede Angus ancora una volta a raccontare queste questa serie di storie a questi eh a questi eh a questi a questi ascoltatori molto particolari quindi che cosa dire io vi consiglio tutto sommato questo questo numero che è molto molto carino molto molto divertente che si rifà allo zio Tibia che viene eh ricordato eh ricordato menzionato eh nel nell'editoriale nella seconda di copertina di Fumasoli che a me ricorda un po' gli horror della Hammer con Peter Cushing e Christopher Lee che a volte presentavano appunto delle storie a episodi ma che potrebbero molto banalmente racconti ricordare i racconti brevi di Edgar Allan Poe piuttosto che di Lovecraft io vi ringrazio per l'ascolto ancora di questo video eh se avete anche voi acquistato questo numero fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto oppure no io è una lettura che mi sentirei di consigliare eh per chi ama per chi ama l'horror è una lettura molto scorrevole molto piacevole che eh sicuramente non delude io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti